Sì, il pronto soccorso essendo un punto focale della risposta in termini di salute da parte dell'azienda risente delle oscillazioni che possono essere di carattere anche temporale ora abbiamo un picco influenzale 20 accessi ogni ora, questo è il ritmo con cui i pazienti hanno barcato l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in queste settimane Noi abbiamo un problema sicuramente di afflussi maggiori durante il picco influenzale durante la stagione invernale, non limiterei solo all'influenza insomma durante la stagione invernale soprattutto alcune categorie di persone si ammalano di più e quindi ricorrono più frequentemente al pronto soccorso e soprattutto quello che mette in difficoltà la struttura è che aumenta la necessità di ricoverare noi abbiamo un'ottima azione filtro nell'epoca per tutto l'anno che è intorno al 10,6% vuol dire che di tutte le persone che vengono al pronto soccorso ne ricoveriamo poco più del 10% in periodo invernale ovviamente aumentano soprattutto persone anziane che in corso di influenza o dopo l'influenza fanno una complicazione respiratoria importante e quindi hanno necessità di ricoverarsi e questo mette un po' in difficoltà tutta la struttura perché il pronto soccorso è fluido e funziona bene se i reparti accolgono, se i reparti hanno difficoltà ad accogliere è chiaro che un po' si intasa il picco massimo di gran lunga altissimo che si crea in pronto soccorso è tra le 9 e mezzogiorno il che vuol dire che la gente lo prende per un ambulatorio il picco influenzale ha messo a dura prova la medicina d'urgenza se consideriamo che spesso sono gli stessi medici di famiglia o le guardie mediche a consigliare di chiamare il 118 ecco che il collasso del sistema è dietro l'angolo non sono messi nella migliore delle condizioni, questo no noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni da parte della cittadinanza di mancanza di risposte è chiaro che l'attribuzione della mancanza di risposte è lungi da noi, è ben donde da noi attribuirla al professionista molte volte i professionisti per esercitare, per dare una risposta adeguata hanno bisogno anche della parte organizzativa e strutturale Senta, il fatto che un medico che non ricovera, quindi dall'accesso al pronto soccorso comunque che poi non procede al ricovero abbia un premio tra virgolette produzione a fine anno è una leggenda metropolitana? Assolutamente, smentisco in maniera più categorica è una leggenda metropolitana noi abbiamo appunto questa azione filtro qui che ci viene riconosciuta essere abbastanza valida e dobbiamo come obiettivo mantenersi sotto il 12% che per noi è un obiettivo facilissimo da raggiungere perché noi non abbiamo lo stress assolutamente di non ricoverare questo nella maniera più assoluta grazie a tutti grazie a tutti